buonasera a todos stasera purtroppo sono da sola ma stasera andiamo ad aprire praticamente in stesso video due bolle giusto per cambiare sperando che trovo una rara qui dentro apriamo quella piccola prima si ritengo la sorpresa per dopo allora andiamo a vedere questa è una buona fucsia è presa apposta questo è l'inizio di bonbon ragazzi cartoon questo è l'indizio di bonbon quindi o possiamo trovare bonbon o al massimo midnight io spero tanto in bonbon no dicevo non si vedeva questo è l'indizio di bonbon ragazzi posso vederle io le scarpine aspetta come non facevi il video allora aspetta si pido a te le scarpine allora qui c'è una guadoncina abbiamo già capito che non è bonbon ho già capito perché involontariamente ho sentito già cosa c'è qui quindi questa è il cerchietto insomma allora dobbiamo aprire questo tanto ho già capito chi è purtroppo involontariamente ho toccato e ho scoperto che non è bonbon ma è l'altra quindi ci ho sperato ma non è eh vabbè ragazzi vogliamo farci ma è midnight eccola qui sarebbe praticamente questa ci ho sperato ragazzi eccola qua ok eccola qui midnight purtroppo la sorella più grande l'ho data via quindi diciamo che non ho formato una coppia ecco qua poi ragazzi vi metterò come al solito vi alleggo sempre la foto finale adesso andiamo ad aprire questa allora mamma mia ragazzi ok allora qua mettiamo giù voglio vedere è oro è oro è oro è oro ragazzi è oro aspettate aiuto è oro ragazzi è oro guardate no vabbè questi sono che botta di beep veramente possono essere anche gemellini però non è detto eh sì ma tu aspettiamo voglio aprire tutto dopo no capito l'hai presa casualmente esatto quindi veramente tanto allora aspettate che si state infattate ma la faccia che dicevi io non la prendo la volta mamma mia ragazzi posso io dall'indizio credo siano i gemellini perché è troppo piccolo se fosse così li ho due allora dove andate a finire io l'ho visto all'indizio allora l'indizio dei gemellini è un limone e un rollie pop scusiamo comunque la bolle è oro quello che abbiamo capito anzi no aspettate qui ok togliamo tutto chiudiamo anche questo questo ok allora guardiamo l'indizio ok sono i gemellini eccoli qua eccoli qua non hai probabilità di fare altri no non è più forse l'oro sì sì in questo è un ultra raro anche l'oro mamma mia eccoli qua ragazzi stasera me l'hanno fatta ricredere eh che basta mmh cioè lì mi era uscito l'indizio di bonbon e non è bonbon qua mi è uscito a oro e non è quello che cercavo andiamo bene questi sono gli occhiali di di spice diciamo belle cose ma illusioni e l'asso qui ci sono gli occhiali di sugar qua troviamo oh partita è caduto il gemellino nero nero allora abbiamo l'il sugar e l'il spice cioè io questi li volevo li volevo tantissimo poi li ho trovati adesso che già li ho insomma l'europeo e l'africano e qua c'è la borsetta eccola qua tutta ovviamente divisa la metà ovviamente in base al loro colore di scarpe e niente ragazzi questo è quanto per stasera mi hanno praticamente illuso perché è stata un'illusion vabbè però una polora l'hai trovata però una polora l'hai trovato sì alla fine la rara l'hai trovata dai ultra rara sì e niente ragazzi dai questi probabilmente li metterò in scambio sperando che qualcuno mi scambia la kitty a questo punto ho una probabilità che qualcuno mi possa scambiare la kitty queen o comunque li venderò sempre nel gruppo l'or surprise scambio vendo niente questo è quanto noi ci vediamo alla prossima ciao ciao bye bye ciao